che vedo che vedo che vedo questo è nerazzurdo ma non è nerazzurdo di una squadra che stasera non pensavo minimamente che potesse non vincere ho visto la partita ho visto la partita vi devo dire che questo portiere dell'Empoli merita l'Oscar merita di essere attenzionato un portiere di 21 anni che ha parato l'impossibile l'Atalanta ha avuto esattamente dai 15 alle 18 palle e gol parate straordinarie gol non fatti per un pelo l'Empoli ha avuto una grossa occasione nel secondo tempo una sola grossa occasione che addirittura avrebbe sfiorato il colpaccio con questo pareggio interno signori miei l'Atalanta si fa non dico fuori dalla lotta ma ai margini perché la situazione a 6 giornate dal termine abbiamo secondo posto Napoli 67 va bene Inter 60 Milan 55 Roma 54 Atalanta 53 poi la Lazio se dovesse vincere con l'Udinese ma non è facile potrebbe andare a 52 quindi una lotta molto bella l'Atalanta certo se si avesse vinto stasera si portava al pari con Milan non so non so sono ancora 18 punti a disposizione ma la lotta pure per detrocedere amici miei io sto un po' con la classifica alla mano dato atto che Chieva è in serie B il Frosinone anche se non matematicamente è in serie B abbiamo l'Empoli per un solo posto adesso per detrocedere Empoli 29 Bologna 31 Udinese 32 Genoa 34 e Parmespal 35 se vogliamo mettere anche loro e quindi certamente la lotta per non detrocedere è sostanzialmente molto per il momento fra Empoli Bologna Udinese che ha quindi anche l'Udinese questa chance di non perdere con la Lazio molto 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 bello e da vincente questo campionato se non fosse per la Juve che ne fa un altro ok io ho visto la partita signori me ho visto la partita clamoroso clamoroso se voi andate a vedere gli highlights ma gli highlights non possono mai rendere l'idea perché io dopo i primi 10-15 minuti ho detto vabbè mi vedo 1-2 gole dell'Atalanta vado via passavano i minuti occasione un pelo fuori ecco qua sta per andare no il postiere sulla linea addirittura un'occasione di quelli tre tiri uno dietro l'altro presa una volta dal difensore sulla linea una volta dal postiere vi dico l'impossibile chi l'ha vista sa io nei panni di un tifoso atalantino non so cosa avrei fatto dal punto di vista dell'Inter non può fare che piacere e la lotta continua cosa ha 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 ha